Benvenuti nella guida sui servizi della sede di medicina della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Innanzitutto vedremo quali sono le tre sedi della Biblioteca di Ateneo e il polo di Biblioteca Digitale. Guarderemo insieme il sito web della Biblioteca, lo strumento che dà accesso alle nostre risorse e servizi. Analizzeremo i servizi della sede di medicina. Infine, guarderemo la piattaforma Bibliolearning. La sede di medicina si trova a Monza, nell'edificio U8. L'ingresso è a piano terra. La Biblioteca è una sola per tutta l'area disciplinare di medicina, quindi non solo per medicina, ma anche per infermeristica, fisioterapia, ossetricia, ecc. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30. A partire dal 14 novembre 2016, stiamo sperimentando il prolungamento dell'orario d'apertura, dal lunedì al giovedì, fino alle 19.30. Il venerdì osserviamo l'orario usuale, dalle 9 alle 18.30. La sede di scienze si trova a Milano, nell'edificio U2. È aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30. La sala periodici, invece, chiude alle ore 16. È il riferimento per l'area delle scienze. La sede centrale si trova anch'essa a Milano, ma nell'edificio U6. L'ingresso è a secondo piano. Copre tutta l'area umanistica, l'area economico-statistica, giuridica, psicologica, di scienze della formazione e sociologica. Qui si trova anche il polo di archivio storico, che conserva i fondi archivistici dell'Aspi. È aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 21.45. E il sabato, dalle 9 alle 13.45. Il polo di biblioteca digitale si trova a Villa di Bremeforno, a Cinisello Balsamo. È una biblioteca solo digitale ed ospita eventi culturali. Grazie.